12 anni fa io ho fatto arrestare un poliziotto marcio e mi hanno dato una medaglia. Bella storia, vero? Ho preso anche una pallottola e so che mi devo guardare le spalle per il resto della mia carriera. Tappati la bocca! Qui dentro già è un forno, le tue cazzate risparmiamele. C'è un'altra ondata di caldo, ci sono continui blackout, la città è un disastro, basta! Mi voleva, capitano? Sì, entra pure. Zick, ti presento il detective in formazione William Schenck. Era il migliore dell'accademia, quindi non rovinarmelo. Zick ti mostrerà i trucchi del mestiere. Detective Banks è una... Bene. Vai? Sì.